Sabato 30 gennaio e 1750 piazze d'Italia attorno all'iniziativa dell'AIRC, le Arance della Salute. Ne parliamo con una volontaria, Giulia De Angelis. Dunque anche quest'anno si rinnova questo appuntamento dedicato alla ricerca contro il cancro. Assolutamente, quest'anno peraltro particolarmente importante perché festeggiamo i 50 anni di attività di AIRC per la prevenzione e la lotta contro il tumore. E anche quest'anno, quindi a Tolentino, come dicevi tu altre 1750 piazze, ci troverete con le Arance della Salute e in cambio di una donazione di 9 euro potrete ricevere una reticella di arance di 2,5 kg che appunto serviranno per sostenere l'importantissimo lavoro che AIRC da 50 anni continua a fare. Tra l'altro dicevamo tantissime le piazze, dai piccoli centri fino alle grandi città, per saperne di più? Per saperne di più basta visitare il sito www.airc.it dove potrete trovare la piazza più vicina a voi. È da ricordare che sabato 30 speriamo che queste arance vadano via tutte quante, però se nel caso insomma la gente sabato 30 magari si svegliasse un po' tardi, cosa si fa? E rimaniamo in piazza anche per la domenica 31, è ovvio che noi speriamo che con il sabato riusciamo a finire insomma tutto il quantitativo d'arance anche perché le condizioni atmosferiche nella campagna delle arance sono sempre un po' come dire difficili, però noi ce la mettiamo tutta come sempre. E tu ci sarai!